... Globus Magazine e Globus Radio Station, buongiorno, siamo qui al porto di riposto in compagnia di Rosario Catania, l'Ironman catanese che si è presto a comprare una vera e propria impresa. Allora Rosario, intanto ci puoi spiegare brevemente in cosa consiste, quali sono le tappe, i mezzi che utilizzerei per compiere questo percorso? Buongiorno a tutti, è un giro che abbraccia un territorio molto vasto, ci sono 18 comuni interessati, 3 aree naturalistiche e 2 siti tinesco che sono l'Etna e il barocco catanese, per circa 135 km, sono 5 discipline che si alternano, partirò con la tecnica del nordic walking per 8 km fino a fiume freddo, poi salirò in mountain bike fino a piano provenzana, 35 km, da lì praticamente andrò a scollinare i crateri sommitali per scendere dal lato di Nicolosi, in trekking, sono 21 km e poi 35 km di corsa notturna per raggiungere il mare e solo nelle prime ore dell'alba prendo la canoa per raggiungere nuovamente il porto di riposto attraverso una traversata in mare di 36 km. Ora, non ti chiedo qual è il tuo segreto, ovviamente è chiaro che ogni treda ne ha uno, ma quanto impegno, quanti sacrifici ci vogliono, quanto allenamento per poter arrivare preparato a una prova che comunque richiede uno sforzo fisico notevole immagino? Diciamo che queste endurance si ottengono dopo una serie di prove, altri endurance fatte da 24-36, considerate che io l'anno scorso ho conseguito il Guinness World Record di camminata nordica per 70 ore, sono ben tre giorni, quindi bisogna diciamo ruotare, collaudarsi nella distanza e nella resistenza, questi sono i segreti, riuscire a resistere a quelle che sono tutte le fatiche, i distretti muscolari, si indolenziscono, il crollo psicologico, superate queste fasi e facendone diciamo ricchezza, se è possibile diciamo affrontare una sfida del genere. L'ultima domanda, il caldo in questo caso contò influire, cioè magari non sarebbe meglio farla in un periodo un po' più fresco, tra virgolette, dell'anno? Sì, ma ogni cosa ha il suo pro e il suo contro, farla d'inverno avrebbe significato attraversare i criteri sommitali con la neve abbondante o la possibilità di forti temporali o il mare agitato, qui le variabili in gioco sono tante, ho dovuto fare una media e comunque oggi la giornata è quella del riconoscimento dell'Etna patrimonio dell'umanità e quindi questa è stata la data che ha generato tutta la sfida. Siamo qui proprio per celebrare il secondo anniversario. Grazie Rosario, in bocca al lupo per la tua impresa. Grazie a voi.